Ci pensi ormai, grosso modo sono anch'io 20 anni che faccio questa musica, ho sempre camminato un po' su quei due mondi lì, da una parte appunto quella più street, se vuoi anche per la crew di cui ho fatto parte, quindi quella era una cosa assolutamente naturale, ma sono sempre stato interessato a determinati argomenti. Ted Bundy per L Magazine, bella Riro, grazie mille a te, grazie mille Sid, bella L, grazie a voi. Abbiamo deciso di incontrarci perché hai appena fatto uscire un EP lungo, un lungo EP che si chiama Marcos, partiamo dal titolo, come vai proprio Marcos? Assolutamente sì, mi piace la definizione di lungo EP innanzitutto, che forse è quella più, io ho parlato a lungo appunto di progetto perché non volevo chiamarlo album, In realtà come tu sai adesso sono le piattaforme a decidere che cosa è un album e cosa no, quando supera le sette tracce in automatico diventa un album, anche se per me questo progetto nasceva proprio con l'intenzione di fare un EP che poi è diventato qualcosa di più corposo, Quindi secondo me la definizione di lungo EP mi piace particolarmente. Il titolo Marcos è un gioco di parole al cui interno ci sono una serie di significati. Chiaramente Marcos gioca un po' con, intanto con Narcos che nell'immaginario diciamo dello street rap è una figura sempre come dire presente in qualche modo, fa parte dell'immaginario ecco dello street rap, Ma soprattutto Marcos gioca col fatto che, Marco è il mio nome di battesimo, cioè Marco Marcos, e volevo, e si vede insomma fin dalla grafica, recuperare la figura del subcomandante Marcos, innanzitutto perché nel mio rap ha sempre avuto un'intenzione se vuoi anche un po' divulgativa, Quindi mi piaceva l'idea di, nel mio piccolo, provare a far conoscere magari ai più giovani questa figura che per la mia generazione era importante, nel senso che era una figura in suo modo mitica, era un po' il Che Guevara della nostra generazione, oggi mi sembra che sia stata invece un po' persa. Come figura io la considero parecchio direi attuale nella sua inattualità, se mi permetti questo gioco di parole, nel senso che, come dire, a partire dal fatto che del passamontagna, no? Al giorno d'oggi in una società invece dove si tende, come dire, a pubblicizzare ogni aspetto della vita, anche privata, il fatto che non si sappiamo bene quale sia l'identità che si cela dietro questo passamontagna, secondo alcuni era un docente di filosofia, quindi qualcosa di attivente anche ai miei studi, un altro insomma punto di contatto, e soprattutto il fatto che è stato un personaggio che a un certo punto ha detto sostanzialmente io non ho nulla da dire, mi ritiro e l'ha effettivamente fatto e questo secondo me anche qui, in una società in cui quasi compulsivamente tutti dobbiamo a tutti i costi sempre esprimere il proprio punto di vista su tutti, è un bel insegnamento che vale anche per me. Ecco, un giorno magari finissi, mi piacerebbe in qualche modo finire un domani, magari remoto, la mia carriera artistica in questa maniera, dicendo ho detto tutto, non voglio, vi saluto, ecco. Guarda, nella tua poetica parlare di street rap è molto logico, l'hai detto anche tu prima, l'hai definito come genere, e poi si parla di politica, di società e personaggi storici, no? Che sembrano quasi due argomenti che non stanno sullo stesso tavolo, tu li fai convivere. Sì, sì, ti ringrazio, nel senso che è un po', io negli ultimi lavori mi sto rendendo conto che un po', per certi versi sto tornando alle origini di quello che facevo all'inizio, probabilmente spero con una maturità diversa, nel senso che io, effettivamente se ci pensi ormai, grosso modo sono anch'io vent'anni che faccio questa musica, ho sempre camminato un po' su quei due mondi lì, da una parte appunto quella più street, se vuoi anche per la crew di cui ho fatto parte, quindi quella era una cosa assolutamente naturale, ma sono sempre stato interessato, insomma, a determinati argomenti, anche perché poi, appunto, se in Italia magari i miei riferimenti erano quelli, a livello, come dire, di rap americano, io sono cresciuto chiaramente con artisti come i Public Enemy, ma più in là con gente come Immortal Technique, eccetera, quindi l'impronta era quella lì, ecco, era ed è quella, perché poi fa strano, no, in un periodo dove il rap è super frammentario, ci sono mille cose in giro che hanno mille stili diversi, però la tendenza è una, avere nel 2024 voglia di fare un disco come il tuo non è proprio istintivo, non è che dici, l'ho fatto per opportunità, perché funziona quella musica lì, l'hai fatto perché c'avevi qualcosa da dire in quell'ambito? Assolutamente sì, nel senso, vabbè, questa è stata, diciamo, il fatto che io alla base abbia sempre comunque concepito la musica indipendentemente da quello che funzionava, come anche se vuoi una valvola di sfogo personale, è sempre stato così fin dall'inizio, però sono d'accordo con te su quello che, se vuoi, lettura che dai di quella che è la scena attuale, per lo meno io al momento vedo due tendenze dominanti, forse sbagliando, però da una parte io vedo che c'è una sorta, per lo meno in Italia, di pop che è molto assimilato al pop o viceversa, poi dipende dal punto di vista e quindi molto sicuramente attento alle esigenze del mercato, che poi personalmente è anche una via appunto che a me interessa relativamente, ecco, seguo anche poco, pur rispettandola ovviamente. Dall'altra parte, secondo me, io vedo che esiste un underground che secondo me ha avuto, un certo tipo di underground che secondo me ha avuto il merito di riportare in auge e nobilitare, rinobilitare in un certo qual modo proprio il rap fatto in una certa maniera, probabilmente un po' assorbendo la lezione che veniva in America dal mondo Griselda, eccetera, che però, se posso permettermi, come dire, una veramente velatissima critica, poi è nient'altro che un punto di vista, spesso ho l'impressione che sia un po' l'altra faccia della medaglia di quella prima via, cioè nel senso, produzione in serie di, capito, di strofe, un po' sempre quella logica da consumo da fast food, capito, una roba anche magari produzioni, strofe, album fighi, che però magari perlomeno a me non capita di dire ho la necessità di riascoltarla quelle dieci volte, come si faceva. Siccome c'è una terza via, ecco, possibile, che poi, se vuoi, è la via, quello che dicevi te, la declinazione naturale del rap, che è quella del concetto, del messaggio, che poi non è necessariamente appunto quello che faccio io, nel senso, o anche soltanto per forza trattare di tematiche sociali o politiche o chissà che cosa, o storiche, ma è anche la via di qualcuno che magari sceglie di, non so, la via del conscious rap, piuttosto dello storytelling, cioè quella cosa lì si può fare in, in quella terza via, secondo me, si può, permette poi di percorrere a sua volta un'infinità di sentieri diversi. Certo, e poi fa parte la libertà del fare musica, che non deve mancare neanche se c'è un mercato dietro che ti dice cosa devi fare, cosa dovresti fare. Esatto, quello è la base. Hai voluto un po' di compagni di viaggio, un po' di penne che ti accompagnino in questo viaggio. Esatto, infatti io, quando ti dicevo che questo lavoro nasceva come un EP, era proprio quello, cioè il, se vuoi concept, non so come dire, era proprio quello di fare un EP della serie Pavarotti and Friends, cioè Ted B and Friends, mettere insieme cinque tracce, ognuna di queste, proporle a un artista che stimo o di cui sono amico e insomma vedere come andava. In alcuni casi appunto ce l'ho fatta, in altri no, e quindi magari ho proposto in alcuni casi lo stesso pezzo ad altri artisti, secondo me anche con un risultato migliore di quello che era, quindi bene, e poi col tempo, niente, un po' se vuoi anche semplicemente la foga di scrivere, ho arricchito questo lavoro con due tracce di fatto soliste, quindi è diventato quello che è appunto un lungo EP. Chiaramente forse le collaborazioni a cui tengo di più sono, non ovviamente per screditare gli altri, che ci mancherebbe altro, ci tengo a tutte, però sono, vabbè, Young Stalin della P38, che è un gruppo che insomma nello scorso anno ha fatto, nel bene e nel male, ha fatto molto parlare di sé, e il pezzo con il danno, che poi è anche il singolo di Marcos, che è già la seconda volta che collaboriamo insieme, è una cosa che soprattutto mi fa piacere che al di là della stima artistica, per quanto ci conosciamo da poco, da un paio d'anni, è nata anche una bella amicizia al di là della musica, quindi ne parlavamo prima fuori le telecamere, questo è anche il bello del rap, questo è quello che mi porto dietro anche da tanti anni che faccio questa musica, soprattutto l'avere costruito, è una cosa che a me ha permesso di costruire relazioni personali, anche di amicizia, che è una cosa per me importante, anche perché ho un carattere spesso non semplicissimo, e il rap mi ha aiutato molto da questo punto di vista. Poi insomma, lavorare con pesi massimi del presente, ma anche del passato, è sempre stimolante, poi una persona che non vive a Milano, c'è tanta della tua musica, racconta la città, oltre che l'Italia, la città, ragionare con un romano, soprattutto nel pezzo che avete fatto, che parla di due decenni chiave per le due città, oltre che per l'Italia, ha molto senso. Esatto, tra l'altro pensa che quel pezzo lì mi è stato proposto, è per quello che ci tengo tanto a quel pezzo, perché mi è stato proprio proposto da Simone, nel senso che l'anno scorso io ho fatto un, anche qui potrebbe, anche Vite parallele appunto può essere definito un lungo EP, in cui sostanzialmente raccontavo anche lì una serie di storie, principalmente italiane, mettendole a coppia, insomma. E lui colpito da questo lavoro mi ha proprio proposto di fatto omaggiare, fare una sorta di remake di un pezzo storico dei Kossang, che è 80-90, dove loro, e siamo andati proprio a riprendere lo stesso sample, dove loro raccontavano la Napoli degli anni 80 e degli anni 90, e lui stesso mi ha proprio proposto, ascoltando quella roba mia, perché non proviamo a fare la stessa cosa su... e quindi io ovviamente non ho potuto fare altro che seguire la ruota, quindi è una cosa che... cioè il fatto che comunque all'interno del mio lavoro c'è un pezzo che peraltro è stato pensato in qualche modo da un altro e soprattutto da un peso massimo, come tu hai detto, come danno, è una cosa che a me fa molto, molto, molto piacere. Bene, poi c'è un'altra affinità che è quella con Kento, che è importante, no? Nel senso che anche lì progetti sociali intorno alla musica, un racconto con una voce diversa anche. Decisamente, e vi posso sicuramente spoilerare che non è la prima volta che collaboravamo, ma soprattutto questa non è l'ultima, nel senso che abbiamo già in cantiere sicuramente di fare ancora musica insieme, capiamo, stiamo adesso capendo che forma dare a tutto questo, però anche lì è un altro bel rapporto che si è nato, si è costruito e si sta consolidando, quindi figo, bella Kento. Ma invece le musiche, perché abbiamo parlato tanto di contenuto, no? Cioè questa cosa del rap scritto a tema è importante nel disco, però poi ci sono sotto dei beat. C'è tutta una parte musicale, esatto. Allora, anche qui, se qualcuno magari nota, come dire, delle dissonanze interne a questo progetto, non nel senso che qualcosa suoni male, ma che magari effettivamente non c'è un fil rouge sul piano musicale generale, ci può stare, nel senso che appunto, come ti ho detto, è qualcosa che è diventato un lungo EP, ma doveva proprio essere volutamente un riassunto di pezzi proposti ad artisti differenti. Io un po' per, se vuoi, per caso, perché comunque da sempre, mi piace fidelizzarmi molto ad un singolo produttore, cosa che adesso, oggi, vedo che è abbastanza diffusa e la posso capire. Per me è sempre stato così, fin dall'inizio, forse proprio perché, come ti dicevo, ho sempre cercato nella musica anche di costruire delle relazioni personali. Negli ultimi, praticamente, due o tre lavori che ho fatto, mi sta accompagnando molto Uraz, che è un artista in realtà abbastanza polivalente, nel senso che lui lavora anche con le grafiche, quando capita rap, infatti i miei vecchi dischi è presente come rapper, e negli ultimi anni si è messo sotto a produrre tantissimo, e soprattutto, lui è un grande digger, no? Gli piace molto lavorare col sample, soprattutto con l'MPC, con le cassettine, come si faceva una volta. Questa è una cosa che a me piace moltissimo, quindi, di fatto, credo che almeno quattro di questi sette beat siano prodotti da lui, e poi c'è un beat dello spesso e di Virus, che sono due altri produttori con cui ho già collaborato in passato, e soprattutto c'è un brano prodotto da Virus e Iron, che ha delle cadenze decisamente più rock, ma forse addirittura metal, con una cantante, Lily Waterfull, che è proprio una cantante del genere, perché anche quello è un mondo che a me ha sempre affascinato ed è stato comunque importante per la mia formazione, quindi ha senso che anche quel brano finisse all'interno di Marcos, secondo me. Sì, infatti poi quello che si vede è una poliedricità vera e propria, no? Della musica, musica sempre un po' con quest'attitudine street, no? Che è un altro dei sottotesti, quella più dal basso, ecco. Sì, decisamente sì, anche perché comunque è quello che so fare, che è quello che più mi rappresenta, e mi fa piacere appunto che venga anche riconosciuto, quindi assolutamente. No, è un fil rouge sempre della tua maniera di fare le cose, no? Sappiamo la tua passione per lo stadio, la tua passione per la politica e soprattutto quello che la politica poi fa vedere attraverso la strada, attraverso la lotta, la manifestazione del sentire politico. Esattamente. Per cui ha tutto senso che sia poi hip hop, punk rock o metal in una certa maniera va in secondo piano quella cosa. Sì, è vero e poi soprattutto io sono anche cresciuto in un'epoca in cui tutti questi mondi rappresentavano esattamente quella cosa, quella cosa di lotta, erano generi proprio definiti, a me piace anche molto il termine controculture piuttosto che sottoculture. E quindi, certo, oggi forse l'hip hop che ha avuto anche a livello commerciale una fortuna maggiore, forse anche perché si è impegnato di più rispetto ad altri, però mi piace che venga preservata quella sua natura originaria, diciamo. Certo. Che c'era anche nella crew che frequentavi, che c'è nella crew che frequentavi. Sì, esatto, che adesso soprattutto diciamo siamo proprio nel periodo che tutti aspettavano, penso, quello del gruppo più rappresentativo appunto di quella crew che sono i Club Dogo e quindi bella, insomma, bella. Esatto. No, poi secondo te, no, un periodo come questo che ha rivisto i Club Dogo in un grandissimo spolvero, no? Più fan adesso di quando si sono sciolti, detta proprio con i numeri, visto che l'analisi della musica passa anche attraverso i numeri al giorno d'oggi, oltre che attraverso la qualità. Quanto può influire sul tuo lavoro una cosa del genere? Cioè, secondo te l'eco di risonanza di una cosa del genere si può riflettere anche sul tuo e quindi diventare un meccanismo virtuoso di... Allora, ti dico, intanto anch'io, io penso che non mi aspettavo... Domanda aperta, non ci risposta. Eh no, guarda, ci arrivo nel senso che io non mi aspettavo neanch'io questi numeri, tanto che pensavo, cacchio, chissà se la nuova generazione conosce il repertorio dei Club Dogo, perché forse, spesso, evidentemente, erroneamente, guardo a quella che chiamano Gen Z, credo, come qualcosa di molto legata, capito, all'adesso, no? All'ick-et-nunk, però evidentemente non è così. E appunto lo dimostrano i dati dei concerti, ma soprattutto come hanno reagito ai concerti. E questa cosa può avere un eco, può avere un'onda lunga, io lo spero, lo spero, ma soprattutto perché al di là poi dei numeri in sé, che a me, sinceramente, te lo dico, interessano relativamente, e anche qua faccio parte di una generazione in cui, grazie a Dio, io sono stato molto più fortunato, sono partito in un periodo storico in cui quasi più eri piccolo più era figo, non c'era di subito questa esigenza del numero, ma, diciamo, quello che mi... spero di sì, ti dicevo, non tanto per i numeri, quanto perché una delle mie aspirazioni ogni volta che faccio musica, proprio per le ragioni in cui ti dicevo prima, è che la mia musica rimanga il più possibile. Quindi il fatto che magari qualche ragazzo di... che magari quando ha iniziato a rappare, ormai non era nemmeno nato, venga a sentire il mio disco di... che è appena uscito, Marcos, o vado a recuperare le cose che facevo uscire quando nasceva, e per me è una grande vittoria quella, ed è una cosa che mi riempirebbe molto, ecco. Grande, grande Marco, grande te. Grande Vido, grazie a te, grazie mille. A presto. Grazie mille.